Amici di Cavallo Magazine, buongiorno. A Fiera Cavalli è arrivata la bellezza ed è arrivata con Miss Equinitaly. Qui con noi Miss Equinitaly Carolina Charret, Mr. Equinitaly Gabriele Giambastiani e l'organizzatrice del concorso Ilaria Paola. Ciao Ilaria. Allora raccontaci questo concorso che lega bellezza e passione per l'equitazione. Assolutamente, è un concorso che vuole unire sia l'equitazione sia la bellezza e soprattutto la passione per questo mondo. È un concorso che è già la chiusura della seconda edizione, quindi siamo abbastanza rodati. È un concorso che si divide in tre fasi. La prima fase, come poi insomma sanno i nostri vincitori, è composta da un colloquio dove ci sono alcune domande legate proprio alla loro preparazione sul mondo dell'equitazione, ovviamente legate poi anche alla patente FISE. Il secondo step è quello dove si sono fatti votare sui social e sul nostro sito e l'ultima è la finale in cui hanno sfilato, grazie anche a Nicole che li ha preparati, davanti al pubblico in abito da sera e in tenuta equestre. Quindi un concorso, come dicevamo, che è capace di coniugare la bellezza, la voglia di mettersi anche in mostra e naturalmente la passione per l'equitazione. Sono state tantissime le richieste e come possiamo vedere sia per uomo che per donna. Assolutamente, quest'anno abbiamo avuto più di 600 iscritti, in finale sono arrivati 20 finalisti, quindi è stata tosta anche sceglierli. Sono arrivati logicamente quelli anche più preparati ed è stato molto bello perché abbiamo visto tanta preparazione, tantissima passione. Vedere i ragazzi che quando parlano dei loro cavalli insomma gli si illuminano gli occhi è stata una cosa veramente speciale da poter condividere insomma sia condividere insieme e condividere anche poi con i nostri con i nostri follower. Allora andiamo a conoscere appunto i vincitori di questa edizione. Carolina Scharei, la nostra Miss Equinitaly. Presentati pure. Ciao, sono Carolina e ho avuto l'onore di vincere Miss Equinitaly quest'anno. Una cosa totalmente inaspettata ma veramente che mi ha lasciato una grandissima emozione. Monto da quando sono nata perché ho avuto la fortuna nella mia vita di nascere in una famiglia che ha avuto un sogno ed è stato quello di aprire un centro equestre a Montinsella in cui tutta la mia famiglia sono degli istruttori e sono loro ad insegnarmi e sono loro che mi hanno trasmesso l'amore per l'equitazione. Perché ho partecipato a Miss Equinitaly? Diciamo che all'inizio non ero molto convinta. È stata mia mamma che partecipando lei da giovane a delle sfilate di moda mi ha instradata diciamo e devo ringraziarla perché non avrei mai creduto che Miss Equin avesse potuto aprire così tante strade e farmi vivere un'esperienza così bella, sana in un bellissimo ambiente con delle bellissime persone davvero. Mi ha iscritta e all'inizio non ci credevo però poi col passare del tempo conoscendo le ragazze del team di Embrichis ci ho creduto sempre di più e alla fine quando sono andata in finale è stato veramente quasi una cosa molto semplice, una cosa che è venuta da sola ed è stato veramente divertente. E lei era la nostra Carolina, Gabriele è il mister Equinitaly, il presidente di Gabriele. Io sono Gabriele Giambastiani, mister Equinitaly, vengo dalla Toscana e partiamo da quando mi sono iscritto a questo concorso, mi sono iscritto perché ho avuto l'opportunità di conoscere il progetto Miss Equinitaly tramite i social su cui lavorano molto e mi sono iscritto, ho avuto il casting proprio con Ilaria e passato il casting appunto siamo finiti in semifinale e poi tutto seguito dai procedimenti siamo finiti in finale. La finale è stato veramente un momento emozionante perché si ha la possibilità comunque di conoscere a parte tutto il team che ha progettato questo progetto e abbiamo avuto l'opportunità di conoscere tutti gli altri ragazzi, le Miss e i Mister con cui abbiamo instaurato un legame molto importante, infatti ci siamo incontrati anche in fiera e è stato molto emozionante. Ovviamente anche tu monti a cavallo. Sì, anch'io monto a cavallo e monto da ormai cinque anni e questo format ha comunque cercato di unire la passione che noi cavalieri amazzoni proviamo per il cavallo e comunque ci è riuscito, ci è riuscito molto sì. Quali sono i vostri progetti sia per quanto riguarda l'equitazione ma anche per questo nuovo titolo che vi è stato assegnato appunto? Per quanto riguarda l'equitazione sicuramente il mio sogno è seguire le orme della mia famiglia, di mia sorella che diciamo mi apre un po' le acque nel campo dell'equitazione perché facciamo completo e il mio sogno sarebbe quello di appunto diventare una completista a livello internazionale e ovviamente continuare a coltivare la mia passione per i cavalli, migliorare il nostro centro e trasmettere appunto l'amore che provo per questi fantastici animali. Il mio progetto nell'ambito dell'equitazione sarebbe riuscire a entrare in un'accademia militare e ovviamente un centro ipico equestre militare e spero di riuscirci al meglio e invece il mio progetti come Mister e Queen è comunque di tramandare questa cosa a più gente possibile e far conoscere questo progetto a più gente possibile. Invece il mio progetto per quanto riguarda Mister Queen Italy sicuramente sarà quello di poter portare avanti come ha detto anche Gabriele questo bellissimo format e far avvicinare più gente possibile sia all'ambito appunto un po' della moda ma soprattutto quello dell'equitazione ovviamente facendo conoscere questo mondo fantastico insieme a queste persone veramente meravigliose. Allora a conclusione visto che stiamo per entrare nel nuovo anno riparte Miss Equin Italy quindi fate bene attenzione a quello che vi dirà Ilaria. Allora dall'inizio della fiera quindi in realtà da giovedì sono aperte le iscrizioni per il 2023 per il 2024 scusa per cui iscrivetevi semplicemente tramite il nostro sito il modulo di iscrizione esattamente come quello dell'anno scorso vi verranno chiesti i dati e la patente FISE i requisiti sono avere la patente FISE non c'è bisogno di un livello e questa è un'altra cosa che mi piace assolutamente nel progetto è che tutti possono partecipare anche se montate da un anno non c'è problema a noi interessa che siate appassionati e che abbiate voglia di conoscere questo mondo e l'età compresa tra i 15 e i 27 anni. Quindi mi raccomando seguite anche le pagine social di Miss Equin Italy perché ci sono tantissime possibilità si fanno belle esperienze, belle amicizie e si possono aprire anche nuovi percorsi quindi grazie Carolina, grazie Gabriele, grazie Ilaria e viva Miss Equin Italy!